Allora, prima cosa vorrei ringraziare i genitori di Chico perché ha fatto un belissimo lavoro con lui, è proprio un bravo figlione, bravo. Facciamo questo pezzo perché, parlando di musica, gli ho detto che non aveva visto il film di La Bamba, lui dice no, non l'ho mai visto, c'è la che parla così però. Ora io ho prostato di voi, la storia di Riccardo Valenzuela, in arte Richie Valens, quello che ha scritto, che ha riportato il successo La Bamba e lui si è innamorato, tanto che era una settimana prima arrivata a casa mia con una banana, con un'invidia pazzesca mia perché ormai posso farla sul petto la banana, al massimo. Scusami, scusami, puoi girarti, devi fare pressione, no perché se vede il Federico con la barba, cioè è troppo ridicolo la cosa, cioè se gli metti, se gli metti, se gli colturaccio, no, poi c'è il mio bagno, vabbè, poche parole, c'è il prosto lì, sentiamo da schiacciare, fate un applauso a questo cazzo. Faccio 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 un applauso a questo cazzo. una bala al lavabo se necessita una boca de presi una boca de presi a qui parmi vai a riva, vai a riva vai a riva, vai a riva por qui sarei, por qui sarei por qui sarei Grazie a tutti